Calcio Mercato l'originale è l'appuntamento di Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio condotto da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Faina e va in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23 a partire dal prossimo mese di gennaio. La sigla della nuova edizione scritta e interpretata da Alessandro Bonan sarà girata all'Aquila e vedrà la collaborazione dell'orchestra del Conservatorio Alfredo Casella. Che a un certo punto poi uno si chiede ma che ci azzecca il calcio con la musica? Ci azzecca perché a parte che tutto è musica, la scrittura è musica, la vita è musica e lo sport è musica, anzi più riesci a essere in accordo con la musica più fai bene lo sport. e detto questo insomma è un principio un po' strambo ma forse filosofico, nel mio caso la musica è sempre stata un po' una forma di guida in tutto quello che ho sempre fatto e quindi ho provato negli anni scorsi a portarla anche dentro il programma, la cosa ha funzionato e quindi siamo andati avanti. Oggi siete qui per quale motivo? Perché registriamo quella che fino a un po' di tempo fa si chiamava la sigla del programma, adesso la chiamano la canzone del programma e lo faremo con il maestro Bonolis a cui abbiamo girato un progetto scritto da me e dal pianista Leonardo Lagorio, a lui è piaciuto, lo ha ripreso, riarrangiato e con gli studenti e sarà realizzato qua, un'orchestra di circa 30 elementi quindi sarà diciamo un passo ancora più in alto per questo rapporto che c'è tra il programma e la musica. Grazie.